Settimo appuntamento della nostra avventura contro le assolutizzazioni e le banalizzazioni in quella fedeltà alla natura della nostra fede che implica l'equilibrio e implica un'arte sottolineata nei documenti del Concilio Vaticano II del et-et, cioè l'arte di considerare gli opposti e non escluderli, di non avere una mentalità faziosa, assolutizzante per l'appunto. Passiamo velocemente il viaggio fatto, abbiamo scoperto questo mondo, il mondo delle scorciatoie mentali che fanno diventare il ragionamento storto, assolutizzante e quindi abbiamo parlato del distacco, dell'autoironia, dell'astinenza, della preghiera come via di verità e nell'ultima puntata abbiamo affrontato la santa pigrizia, questo argomento paradossale. Oggi ne dobbiamo affrontare un altro paradossale, ma dobbiamo prima focalizzare una cosa importante, ovvero sia il nostro viaggio è un viaggio che colpisce il sovradimensionamento delle cose, quando alle cose diamo troppa importanza, ma anche deve colpire il suo contrario, la banalizzazione. C'è in corso un processo di banalizzazione di cose molto importanti e questo tipo di realtà è sempre qualcosa di pericoloso, perché tutte le volte che noi prendiamo un atteggiamento sbagliato, stiamo banalizzando qualcosa di importante, stiamo sottovalutando qualcosa a cui non stiamo dando la giusta importanza, quindi appunto ogni assolutizzazione corrisponde a una banalizzazione e in questo caso si inserisce bene l'argomento di oggi, oggi l'argomento paradossale è la santa avarizia, come sarebbe a dire? Già abbiamo parlato di santa pigrizia, ora dobbiamo parlare anche di santa avarizia, certamente. Che cos'è questa storia della santa avarizia? Dobbiamo ripetere un pochino un argomento appena trattato nella trasmissione precedente, cioè la sorpresa che i vizi capitali in realtà sono dei doni, sono funzioni di autopreservazione che sono stati indirizzati male. Ecco, la funzione di autopreservazione che insita nel sistema assolutizzante va usato in modo redento. L'avarizia fondamentalmente si manifesta in un atteggiamento di ansia, cioè quell'atteggiamento per cui siamo preoccupati per noi stessi e accaparriamo tutto ciò che ci garantisca sicurezza. È la richiesta disperata e disordinata di sicurezza che si rivolge agli oggetti materiali tendenzialmente perché hanno una loro stabilità apparente, i soldi sembrano dare certezza, i possessi sembrano dare sicurezza con la loro realtà materiale, ma tutto questo è ingannevole. E allora noi finiamo per assolutizzare i possessi materiali e banalizzare i possessi più autentici, quelli interiori, quelli che non ci lasciano mai, quelli che sono inalienabili. L'avarizia, con la sua caratteristica ansiosa e ansiogena, è una valutazione economica delle cose. Se invece prende il timone la bellezza, allora si diventerà parsimoniosi del bene, perché bisogna essere parsimoniosi, cioè è il principio del risparmio, è il principio del non spreco. Nella trasmissione precedente ci siamo fatti una domanda che torniamo a farci. È possibile sprecare la propria vita? La risposta purtroppo è positiva, sì, è ben possibile sprecare anni della propria vita o la propria vita per intero. È possibile sottovalutare le occasioni importanti e belle della vita? Sì, è ben possibile. E dobbiamo stare molto attenti a non sprecare la nostra esistenza. E allora dobbiamo iniziare a focalizzare questi atteggiamenti che tendono a capitalizzare e difendere qualcosa che è importante. C'è un testo del Vangelo di Matteo che dice una cosa un po' curiosa e che ci fa da introduzione idonea alla nostra tematica, quella della Santa Avarizia. In Matteo 6, i versetti da 19 a 21, dicono Non accumulatevi tesori sulla terra dove tignole e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulatevi invece tesori nel cielo dove né tignola né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano, perché là dove il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. Ecco, a ben vedere, mentre questo sembra ad un ascolto superficiale un detto di Gesù contro l'Avarizia, in realtà non è un'esortazione alla povertà ma alla ricchezza. Qui non si tratta di non accumulare tesori ma accumulare i tesori veri, accumulare i tesori non sulla terra ma nel cielo. Quindi dobbiamo essere ricchi, dobbiamo imparare a essere ricchi, come dice San Paolo, o appreso ad essere ricchi, dobbiamo imparare l'arte della vera ricchezza, quella che nessuno può rubare, appunto là dove è il nostro cuore, perché là dove il nostro tesoro sarà anche il nostro cuore. Se ciò che accumuliamo è qualcosa di valido, il nostro cuore starà lì, il nostro cuore sarà al sicuro. Se invece ciò che accumuliamo è qualcosa di incerto, che si sfalda, che può essere rubato, o che può essere tarlato dalla tignola, come viene chiamata qui in questo linguaggio della traduzione evangelica, dove i ladri possono rubare, ecco allora noi siamo sempre in ansia e aumentiamo i sistemi di sicurezza, protezioni e gli antifurti finendo per vivere ingabbiati dalle nostre sicurezze. Cioè ciò che noi prendiamo per sicurezza nella nostra vita diventa la nostra gabbia, perché niente può toccarlo, perché non potremo allontanarci di un millimetro da quella certezza. Generando così uno stato di dipendenza, non potremo vivere un'avventura, un'evoluzione, un cambiamento, una maturazione. Il punto è che la santa povertà di Cristo non è paoperismo, ma oculatezza. Si tratta di proteggere la nostra vera eredità. In questo senso c'è un testo dell'Antico Testamento piuttosto curioso. Nel primo libro dei re, al capitolo 21, c'è la storia dell'avidità di un re, Aqab, che vuole una vigna che è adiacente al suo palazzo per poterla coltivare, per farne un orto. Ma questa vigna appartiene a un buon uomo che si chiama Nabot. Questo Nabot non vuole dare questa vigna e risponde in una maniera strana. Mi guardi il Signore dal cederti l'eredità dei miei padri. Perché? Ecco, tutto questo discorso è altamente simbolico, anche se è concretamente storico, è la storia triste del superuso di un potente su un debole. Ecco, però, perché questo Nabot non cede? Al di là della mancanza di servilismo verso il re, che è un tratto nobile, ma il problema è che lui dice, mi guardi il Signore dal cederti l'eredità dei miei padri. Cos'è questa eredità dei padri? Nella conquista della terra promessa operata da Giosuè, al termine del cammino di uscita dall'Egitto, dopo 40 anni nel deserto, quando Mosè muore e Giosuè prende il suo posto, e c'è la conquista della terra promessa, tutto un discorso di una profonda significanza spirituale, c'è il momento della distribuzione della terra. Tutta la terra viene distribuita fra le dodici tribù di Israele e ogni famiglia riceve il proprio pezzo e quella terra rappresenta la libertà, quel luogo di arrivo, quel terreno che è la zona che finalmente certifica l'uscita dall'Egitto, l'uscita dalla schiavitù. E' la zona che attesta, mostra che è finito il tempo dell'oppressione. E' il luogo che è l'oggetto della promessa, che attesta il compimento dell'opera di Dio nel popolo di Israele. Per cui ogni israelita aveva la sua eredità, ciò che ha ricevuto da Dio. Infatti la terra non sarà conquistata ma ereditata, come succede quando si riceve da una parentela dei beni. Per cui c'è Dio, che è il padre di Israele, che consegna questo possesso. E' un dono che spetta per diritto, ma nello stesso tempo è un regalo, per cui non si è faticato. Infatti c'è tutta una letteratura nel Pentateuco molto molto bella su queste vigne ma non piantate da te, queste case ma non costruite da te, queste cose che Dio regala al popolo di Israele e che rappresentano la storia della salvezza. Ecco, Nabot non vuole cedere ciò che lo lega alla sua eredità di salvezza. E' qualcosa che rappresenta il suo destino di liberazione, il suo destino di eletto israelita che ha vissuto nella sua famiglia, nel suo sangue, una storia grandiosa pasquale di liberazione appunto dalla terra dell'oppressione, dalla terra dell'Egitto. Per cui Nabot non cederà la eredità e per questo sarà ucciso dalle macchinazioni di Jezabele, la moglie di Nabot, costringerà gli anziani della città di Nabot a ucciderlo in quanto bestemmiatore, in quanto nemico del re. Ecco, questa storia qui sembra una storia così semplicemente nel tempo ma c'è da difendere la nostra eredità, c'è da difendere l'opera della salvezza nella nostra vita. E questa è la santa avarizia. Questa è quella cosa per cui ci sono delle cose che non vanno mai banalizzate, non vanno mai sottovalutate, vanno sempre prese sul serio. Ci sono le cose che non vanno prese troppo sul serio, quei tesori che possono essere rubati, quelle cose che non ci faranno mai veramente ricchi, né perdendoli ci faranno poveri, e quei tesori che invece ci fanno veramente ricchi, quelle cose che veramente contano, che veramente sono importanti. Si tratta di proteggere l'eredità, si tratta di vivere difendendo ciò che veramente conta, e in questo senso ci prendiamo la libertà di spiegare un testo molto spesso non apprezzato che è nel Vangelo di Matteo, a capitolo venticinquesimo, è la storia delle dieci vergini che aspettano l'arrivo dello sposo. Ecco, raccontiamo, senza leggere per esteso il testo, il fatto che avviene che ci sono queste dieci giovani donne che devono fare da corteo nuziale, e devono aspettare la fine delle trattative per le nozze, e quindi prendono e vanno ad aspettare l'inizio del corteo, portando con sé quelle lampade che serviranno per fare il corteo allo sposo, per andare dalla sposa, e queste lampade sono le lampade a olio, e le sagge prendono con sé anche piccoli vasi che contengono olio, portano con sé una risorsa, una quantità più lunga di olio, contenute in piccoli vasi, e poi invece ci sono le stolte che non prendono con sé olio, prendono solamente la torcia, perdono solamente la lampada, quindi la lampada ha il suo carico di olio e poi finirà, per la forma della lampada quando finirà l'olio ci sarà il momento in cui lo straccio, dove ha all'uovo la fiamma che brucia il combustibile, che è l'olio, sarà più olio e brucerà per sé stesso, con uno stoppino che non ha più la riserva dell'olio per farlo bruciare e conseguentemente ci sarà l'ultima fiamma dello stoppino o dello straccio che fa da torcia appunto, e poi niente, sarà tutto finito, si brucerà il bastone che tiene la torcia e non c'è più l'olio, e niente, è finito, la torcia è morta. Ecco, le stolte portano poco olio, mentre le sagge portano olio in piccoli vasi, e quando il momento in cui viene detto ecco lo sposo, andategli incontro, ecco parte il corteo, le stolte non possono attrezzare le lampade perché l'olio è finito, mentre le sagge attrezzano le loro lampade per andare incontro allo sposo. A quel punto le stolte chiedono aiuto alle sagge, dateci un po' del vostro olio, dice il testo, perché le nostre lampade si spengono. Ecco, e a quel punto le sagge danno questa risposta antipatica, mai molto apprezzata e mai ben spiegata, no, che non abbia a mancare per noi e per voi, andate piuttosto dai venditori e compratevene, e mentre queste vanno, arriva lo sposo e entra con le vergini sagge. Più tardi arrivano le stolte, bussano la porta e dicono signore, signore, aprici, e lui dice in realtà non vi conosco. Perché questa durezza? Perché questa cosa? E infatti termina il testo vegliate e pregate perché non sapete il giorno e l'ora. Cioè, qual è il punto? Cosa hanno fatto queste sagge per essere sagge? Hanno pensato che poteva essere importante aspettare, attrezzarsi, cioè portare con sé una quantità sufficiente di olio, mentre le stolte hanno pensato ad un'attesa veloce, hanno banalizzato il matrimonio, le trattative sarebbero state veloci, pensavano che la cosa si faceva, abbiamo presente quelle persone facilone che pensano che tutto si fa, basta metterci e si risolve tutto, e questo non è sempre vero. Ecco, sono state facilone, sono state stolte, non hanno preso con sé olio in piccoli vasi, mentre le vergini sagge hanno preso l'olio in piccoli vasi. Cosa è questa storia? Questo avere olio. Ecco, noi dobbiamo considerare che l'olio nella scrittura è un elemento simbolico molto importante. L'olio rappresenta la consacrazione. L'olio, per esempio, è ciò con cui viene consacrato il Sommo Sacerdote. Unto è il nome del Messia. Il Messia era come il re a cui veniva versato un corno d'olio sulla testa per essere consacrato come il re, perché questo olio era un olio profumato, e quindi era il Crisma, che poi noi usiamo, per esempio, nella confermazione o nell'ordinazione sacerdotale. Ecco, il Crisma si prende dove? L'olio rappresenta la consacrazione, le cose sacre. L'olio verrà sparso in tutte le zone del santuario, l'altare dei sacrifici, tutti gli oggetti sacri vengono cosparsi di questo olio che li consagra, li vota a ciò a cui sono destinati. Conseguentemente, l'olio rappresenta tutto ciò che è santo, che è sacro. Cosa sono questi piccoli vasi? Sono le occasioni in cui tesaurizzare l'olio. Ci sono quelli che non si preparano mai per le parti serie della vita, come coloro che vogliono fare dei corsi prematrimoniali velocissimi, sposarsi con tre incontri con un prete, magari fatti di straforo, magari fatti solo personalmente, magari senza prendersi il tempo di spendere il proprio tempo per preparare il proprio matrimonio. E noi abbiamo uno scatafascio matrimoniale dovuto al fatto che si parte per scalare l'Everest con le scarpe da ginnastica, senza attrezzatura. Un matrimonio è una cosa complicata, un matrimonio è una cosa difficile, oggi come oggi poi difficilissima, perché culturalmente non c'è niente che aiuti gli sposi ad andare avanti. Conseguentemente, questi sposi superficiali si preparano una cosa tanto difficile con un 4-4-8 di stolidezza che non porta da nessuna parte e che prepara un disastro. Ecco, invece, per la preparazione al matrimonio bisogna spendersi molto seriamente. Ci sono cose per cui bisogna prepararsi, come un'attrezzatura per scalare una montagna, l'attrezzatura per andare su una cima dell'Himalaya. è molto complicata, bisogna avere indumenti speciali, perché la sfida sarà grande, bisogna prepararsi alla rarefazione dell'ossigeno e cose di questo genere. E così, per prepararsi a un matrimonio bisogna prendere l'olio in piccoli vasi. Non dimentichiamo che nella storia delle Dieci Vergini c'è un matrimonio da preparare, per l'appunto, non è un caso. Ecco, questo discorso qui ci porta al fatto che questi piccoli vasi sono le occasioni che abbiamo per prepararci alla vita, per prepararci alle cose belle e importanti della vita. Tutti noi dovremo affrontare nella vita delle sfide molto serie. Niente è troppo per ciò che abbiamo davanti a noi nella nostra missione. Niente è inopportuno per prepararci bene a fare da padri e da madri della nuova generazione. Non possiamo fare le cose così, alla Saint-Fason, in maniera banalizzante, disordinata, a casaccio, così, improvvisando, come noi italiani siamo tendenti a fare molto spesso. Purtroppo questo non ci porterà da nessuna parte. La vita richiede serietà, la vita richiede preparazione, le cose bisogna farle per bene. Ecco, e conseguentemente queste donne dicono anche una cosa strana. No, che non vabbia a mancare per noi e per voi. Ecco, quello è il tratto apparentemente antipatico di queste donne. Queste donne sembrano così chiuse sulla propria salvaguardia che non danno l'olio alle stolte. E sembrerebbe che è una mancanza di carità. E invece no. Bisogna capire. Questo Vangelo contiene una saggezza molto grande. Ci sono quelle cose che uno non deve compromettere perché mancherà per chi le compromette e per chi le chiede. Ci sono quegli aspetti di responsabilità che non vanno mai tralasciati. non è possibile che ci si spenda per fare cose che non sono la nostra missione. C'è una certa assistenza al prossimo che diventa poi in realtà autodistruttività. No, che non vabbia a mancare per noi e per voi. Cioè, è la nostra soluzione. Io non posso pregare per te. Non posso pregare al posto tuo. Io prego per te come oggetto della mia preghiera ma non al posto tuo, ripetiamo. Io non posso fare la carità per te. Cioè, la devi fare tu in prima persona. Ci sono quelle cose che non possono essere paternalisticamente sostituite da altri. Bisogna lasciare le persone nella loro responsabilità in prima persona singolare. Bisogna dargli il tempo di crescere. Certe volte non bisogna risolvere i problemi delle persone. Bisogna lasciarli nei problemi perché crescano. un certo assistenzialismo porta le persone all'infantilizzazione e ci si appoggia all'aiuto ricevuto e non si diventa mai saggi. Qui il problema è che queste vergini stolte hanno sottovalutato il matrimonio e non è tanto una lezione quella che devono ricevere ma almeno cinque vergini devono riuscire ad arrivare perché se io che sto portando avanti una vita con una oculatezza, con una saggezza entro nel sistema della stupidità nel sistema della leggerezza della superficialità io mi perdo. Non posso compromettere il bene per andare a ricucire le sbreccature del male. No. Il bene va conservato va difeso va preservato. Ecco in questo senso bisogna stare molto attenti. Certo è molto importante occuparsi delle necessità però è molto importante mantenere la salute occuparsi delle malattie è molto importante però d'altra parte la cura di chi deve occuparsi degli altri è molto importante come le indicazioni che si ricevono su un aereo quando si è accanto a un bambino e c'è il problema dell'ossigeno l'indicazione è prima prendere l'ossigeno per sé e poi mettere l'ossigeno al bambino perché perché nello sforzo eroico di salvare il bambino non si salva il bambino perché si muore nello sforzo e si muore anche noi il problema è che per poter fare il bene bisogna anche salvaguardare il bene dentro di sé in sé nel proprio assetto ecco questa è la santa avarizia il tesoro va sempre posseduto non va dato non va svenduto ci sono aspetti della nostra missione se un matrimonio si mette nel servizio in parrocchia o dove sia e a un momento compromette l'identità del matrimonio l'intimità del matrimonio per il servizio che fa magari la comunità ecclesiale sta facendo una cosa stupida e sbagliata non si fa la prima cosa sempre è stare nella propria missione è stare al proprio posto quindi da quello da quello che trabocca da quello che esce da quello che zampilla oltre la propria missione si servono gli altri con un bene che potrà essere gratuito perché è oculato ben gestito e anche abbondante frutto della generosità di Dio ecco se un prete smette di pregare può fare tutti i servizi che gli pare ma poi non sarà un buon prete poi inizierà a prendere le categorie della mentalità del mondo e piano piano non sarà più Gesù Cristo il salvatore sarà il sistema sociale o non so o per attività di qualche genere sarà la socialità il sistema economico o cose di questo genere se non è Cristo il nostro Signore se non è Lui il nostro olio se non è il rapporto con Lui allora dobbiamo chiederci quali sono i nostri piccoli vasi quali sono le nostre occasioni per tesaurizzare lo Spirito Santo per ricevere lo Spirito Santo per vivere lo Spirito Santo mai mettere a rischio i propri spazi di relazione con il Signore partire da quelli partire da quel momento di luce partire dalle nostre esperienze taboriche cioè del tabor nel momento in cui siamo con Lui e vediamo quanto è bello stare con Lui per prendere da quella sorgente il bene che facciamo altrimenti finiremo per disperderci e ci perdiamo noi e coloro che serviamo perché non li serviamo più veramente perciò molto importante focalizzare di cosa dobbiamo essere avari dobbiamo essere avari di qualcosa nella nostra vita bisogna farsi questa santa domanda qual è la cosa che non posso compromettere nella mia esistenza ecco quella è la santa avarizia quella cosa lì non si può toccare il mio matrimonio il mio ministero la mia paternità la mia figliolanza la mia relazione con Cristo queste sono tutte cose che non vanno mai compromesse non vanno mai esposte al rischio grazie a tutti Grazie a tutti.